Siamo notati Gesù e Maria. Cari amici, sta per partire questo video di questo ciclo di Catechesi. Vi invito a iscrivervi al canale, se non l'avete ancora fatto, spuntare la campanella per le notifiche e al termine del video, se il video vi piace, di mettere un bel like e una condivisione con qualcuno per diffonderlo, se lo reputate opportuno per il bene di altri anime. Buona visione a tutti. Laudentur Jesus et Maria. Amici, amiche carissimi, bentornati. Allora, una nuova puntata del ciclo di Catechesi dedicato all'approfondimento del Catechismo Romano del Concilio di Trento. Questa è la puntata numero 23 e abbiamo cominciato la volta scorsa la seconda grande parte del Catechismo, quella cioè dedicata allo studio dei sacramenti, all'appropondimento dei sacramenti, all'importanza dei sacramenti, alla vita di grazia. Abbiamo cominciato a introdurre il discorso, siamo ancora nella parte generale, quando il Catechismo sta approfondendo, anzitutto, come è norma e prassi fare, il significato dei sacramenti in generale. Oggi andremo a vedere alcuni paragrafi, non so se riusciremo, forse no, a finire la parte generale, comunque andiamo un pochino avanti, riprendendo dal numero 154, cioè a differenza del sacramento e gli altri segni sacri, sicuramente il 155, cioè molteplici significati dei sacramenti, il 156, le cause dell'istituzione dei sacramenti della nuova legge, il 157, cioè la forma dei sacramenti. Poi vediamo se avremo la possibilità di andare anche un po' oltre. Cominciamo la lettura. La differenza tra il sacramento e gli altri segni sacri. Come i segni sono di vari tipi, secondo quanto abbiamo mostrato, così anche le cose sacre sono di diverse specie. Per quel che riguarda la definizione dei sacramenti, gli scrittori esclesiastici mostrano che sotto il nome di cosa sacra si deve intendere la grazia di Dio, che ci fa santi e ci adorna dell'abito di tutte le virtù divine. A buon diritto le attribuirono questo senso perché per suo beneficio l'anima si consacra a Dio e a Lui si congiunge. Pertanto, per chiedere più esplicitamente che cos'è un sacramento, si dovrà spiegare che esso è una cosa sensibile, che per istituzione divina ha la virtù non solo di significare ma anche di produrre la santità e la giustizia. Donde segue, come ciascuno facilmente comprenderà, che le immagini dei santi, le croci e simili, pur essendo segni di cose sacre, non si possono chiamare sacramenti. Sarà facile comprovare la verità di questa dottrina con l'esempio di tutti i sacramenti, facendo una applicazione analoga a quella da noi esposta a proposito del battesimo. Laddove facciamo osservare che la solenne abduzione del corpo è il segno e ha l'efficacia di una realtà sacra che lo Spirito Santo opera all'interno dell'anima. La cosa fondamentalissima e importantissima da ritenere per questo che i sacramenti sono così importanti e insostituibili nella nostra vita cristiana è che questi non sono simboli, non sono semplicemente segni di realtà sacre come pensano gli eretici. Vabbè, evito di farci una piccola postilla ma questi sono segni efficaci signum efficax si dice in latino cioè ciò che essi significano lo producono, lo realizzano dentro l'anima. cioè sono operazioni divine e ordinariamente sono indispensabili alla salvezza. Ordinariamente vuol dire che ordinariamente cioè ci sono delle eccezioni rarissime quindi non si può vivere una vita cristiana senza i sacramenti quindi quando incontrate qualcuno che dice quello che dicono sempre a noi parroci ah padre lei non mi vede in chiesa ma non si preoccupi io sono credente io prego anzi ogni tanto vengo in chiesa però quando non c'è nessuno quando sono solo e accendo la candela queste sono tutte quante sciocchezze Dio soltanto sa che cosa gli è furla per la testa una persona che pensa così che cosa si porta dietro che questo non ci interessa ma da un punto di vista oggettivo una roba del genere non esiste Santo Ommaso d'Aquina afferma chiaramente che chi vive senza sacramenti è impossibile che non commetta peccati mortali impossibile come San Giovanni dice che è impossibile che chi è nato da Dio pecchi quindi che chi vive veramente in grazia faccia un peccato ad occhi aperti così è impossibile che chi non vive in grazia non faccia peccati vorrei fare la battuta del nostro amico noto youtuber simpatico e intraprendente che dice sempre l'avete capito ve la devo spiegare questo sia chiaro chi vive la vita della grazia non in maniera superficiale ma seriamente quindi vedremo nel corso di questa sezione quindi vive i sacramenti con le dovute disposizioni quindi consente ad essi di spiegare tutta la loro efficacia perché questo possiamo impedirla in tutto in parte non pecca lo dice San Giovanni chiunque è nato da Dio non pecca chi pecca non l'ha mai visto e conosciuto punto pecca ovviamente non vuol dire che non faccia peccati tutti i giorni facciamo un dato di dolore spero il confito durante la messa ma come ho spiegato innumerevoli volte un conto è il peccato in senso stretto cioè il peccato volontario un conto sono le innumerevoli miserie imperfezioni peccati di difetto peccati che non conosciamo peccati di ignoranza se il nostro Signore ci facesse un flash istantaneo ci prenderebbe un colpo però un peccato ad occhi aperti specialmente su materia grave ma una persona che vive in grazia e che ama il Signore ma non lo fa però è anche vero il contrario se non abbiamo il sostegno dei sacramenti istante la nostra condizione di natura decaduta tu non è possibile che non commetta qualche peccato mortale o anche cosa più probabile un autotreno di peccati mortali andiamo a 155 molteplici significati dei sacramenti questi mistici segni istituiti da Dio sono destinati sempre per divina disposizione a significare non una sola cosa ma molte insieme il che si rileva in tutti e singoli i sacramenti i quali oltre la santità e la giustizia esprimono due altre cose strettissimamente congiunte con la santità cioè la passione dell'edentore causa della santità e la vita eterna ci resta in battitudine a cui come al fine la nostra santità è diretta e poiché questo si può rilevare in tutti i sacramenti ecco qui a buon diritto gli scrittori ecclesiastici hanno concetto fondamentale insegnato che ogni sacramento ha un triplice significato attenzione ricorda una cosa passata indica e mostra una cosa presente preannunzi una cosa fatica in latino si dice tecnicamente signum commemorativum segno commemorativo ricorda una cosa passata signum demonstrativum cioè segno dimostrativo indica e mostra una cosa presente signum prognosticum diciamo che in italiano pronostico è una cosa che riguarda il futuro quindi è un segno che preannunzia una cosa futura né si creda che questo loro insegnamento non sia soffragato dalla testimonianza della scrittura ascoltate l'applicazione che ne fa quando l'apostolo dice quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù nella morte di lui siamo stati battezzati romani sei tre chiaramente mostra che il battesimo intanto è un segno in quanto commemora la passione e la morte del Signore una commemorazione siamo stati battezzati nella sua morte la morte di Cristo è venuta in un certo momento storico chi viene battezzato viene battezzato dopo la morte di Cristo quindi dire siamo stati battezzati nella sua morte vuol dire rievocare commemorare il fatto della morte di Cristo che è a fondamento del battesimo basta e quando prosegue stesso luogo versetto 4 poiché siamo stati insieme con lui sepolti nel battesimo per morire affinché come Cristo risuscitato la morte per la gloria del Padre e così anche noi viviamo una vita nuova e qui vuole significate perché il battesimo è un segno per il quale viene infuso in noi la grazia celeste quindi siamo morti al peccato e sepolti ma con questa grazia abbiamo la forza di iniziare una nuova vita e di compiere con alacrità e gioia tutti i doveri della vera pietà questo è l'effetto del battesimo dimostrativo in quello che opera quindi la morte di Cristo non è solo commemorata ma è efficace in questo sacramento perché? perché ci fa morire dal peccato e ci fa risorgere alla vita nuova di grazia questo è l'effetto di questo sacramento ciò che questo sacramento compie ancora e nel concludere con l'espressione se noi siamo stati innestati alla raffigurazione della sua morte lo saremo anche alla risurrezione sempre allo stesso luogo versetto 5 quindi che cosa significa questo? vuole evidentemente insegnarci che il battesimo significa anche la vita eterna quindi qui si sta parlando della risurrezione finale non di quella già efficace qui che appunto in forza di esso un giorno potremo conseguire commemorativum dimostrativum prognostico ma oltre alle varie specie di significati ora menzionati avviene spesso che un sacramento non esprima e figuri soltanto una cosa presente ma molte come facilmente si vede nel santissimo sacramento dell'eucaristia e questo significa insieme la reale presenza del corpo e del sangue del signore Gesù e la grazia che ne dicevano coloro i quali degnamenti si accostano ai sacri misteri da quanto abbiamo esposto non mancheranno ai pastori argomenti per esporre quanta divina potenza e quali arcani miracoli si cialino sotto i sacramenti della nuova legge e quindi per persuadere i fedeli a trattarli e riceverli con la più religiosa pietà trattarli e riceverli con la più preziosa pietà causa dell'istituzione dei sacramenti della nuova legge 156 a insegnare il retto uso dei sacramenti nulla è più adatto che esporre con diligenza le cause della loro istituzione la prima consiste nella debolezza dell'intelletto umano la cui natura è tale che non possiamo aspirare di giungere alla cognizione delle cose intellegibili se non attraverso quelle sensibili ora affinché noi potessimo comprendere quello che opera le virtù di Dio lo stesso divino creatore con infinita sapienza provveduto verso la dignità verso di noi a esprimere questa virtù con taluno i segni sensibili infatti come ha scritto San Giovanni Crisostomo se l'uomo non avesse avuto il corpo gli sarebbero stati offerti quei beni nudi essenziali in voluto ma essendo l'animo unito al corpo è assolutamente necessario per lei servirsi delle cose sensibili per giungere a comprendere allora qui si sposa chiaramente della dottrina di San Tommaso d'Aquino che in questo segue Aristotele ma questo è evidente a chiunque faccia mente locale ragione un minimo cioè che noi non possiamo conoscere nessuna cosa intellegibile ma veramente neanche fare un ragionamento senza il tramite e partire sempre da cognizioni sensibili non siamo angeli per questa questione Aristotele lo staggirita cosiddetto grande filosofo si distaccò da Platone perché secondo Platone la conoscenza deriva dalle idee innate che ci vengono infuse e attraverso esse noi abbiamo già precostituite le immagini che poi rielaboriamo a contatto con la realtà sensibile ma sono già dentro di noi penso che tutti quanti vi abbiano sentito questa espressione un registratore diceva no l'uomo è una tabula rasa quando nasce zero tu non c'è niente quando nasci non c'è nessuna idea è nata attraverso i sensi entri in contatto con la realtà attraverso il contatto con la realtà sei in grado di estrarre astrarre meglio sarebbe le idee quindi le immagini i concetti e attraverso il ragionamento tu sei in grado di comporre tra loro le idee in questo modo e formulare concetti proposizioni giudizi verità ecc piaccia o non piaccia il nostro intelletto qui funziona così punto e basta quindi dice il grande san giovanni crisostomo se noi fossimo stati senza corpo di tutta sta ambaradanna non ci sarebbe bisogno ma siccome nel corpo ce l'abbiamo abbiamo bisogno di cose sensibili per giungere a comprendere cosa un sacramento opera ed è per questo che essi vanno amministrati nella maniera più assolutamente più devota più dignitosa più decente più decorosa possibile perché questo concorre questo concorre questo concorre alla retta percezione e quindi all'aumento della considerazione di ciò consacramento è e fa la seconda causa sta nel fatto che l'animo nostro non si muove facilmente a credere quel che gli viene promesso perciò Dio fin dal principio del mondo ha avuto cura di ricordare frequentemente le sue promesse talora però nell'annunziare le opere la cui grandiosità avrebbe potuto scuotere la fede nelle sue promesse aggiunse alle parole altri segni che avevano sovente l'aspetto di miracoli quando per esempio Dio inviò Mosè per liberare il popolo di Israele ed egli nonostante il sostegno dell'aiuto di Dio che gli parlava temeva di sobbarcarsi un peso superiore alle sue forze mentre il popolo da parte sua si sarebbe rifiutato di prestare fede agli oracoli divini ecco che il Signore conferma la sua promessa con molti e vari prodigi come dunque nell'Antico Testamento Dio attestò con segni miracolosi la certezza di qualche sua grande promessa così nella nuova legge Cristo Redentore nostro promettendo a noi il perdono dei peccati la grazia celeste la comunicazione dello Spirito Santo istituì alcuni segni capaci di colpire la vista e gli altri sensi affinché servissero come dipegno per noi e ci impedissero di dubitare della sua fedeltà alle promesse la terza causa fu di far servire questi segni quali i rimedi come scrive Santa Proge e quali i medicamenti del samaritano evangelico per ridare e conservare la salute delle anime infatti la virtù che emana dalla passione di Cristo cioè la grazia che ci ha meritato sull'altare della croce deve pervenire a noi come attraverso un canale mediante i sacramenti in altra maniera non c'è speranza di salute per nessuno ecco adesso qui facciamo un bel pit stop la rileggo sta frase e magari ce la impariamo a memoria perché questo è un passaggio focale e fondamentale rileggo la virtù che emana dalla passione di Cristo cioè la grazia che ci ha meritato sull'altare della croce deve pervenire a noi come attraverso un canale mediante i sacramenti è un canale quindi tu c'è una sorgente tu c'hai una sorgente inesauribile come diceva Gesù fiumi d'acqua viva sprizzano bene questi fiumi d'acqua viva devono giungere a destinazione come? ci vogliono i canali i canali sono i sacramenti e si dice in altra maniera non c'è speranza di salute per nessuno vedete quando per nessuno per nessuno perciò il creamentissimo Signore vuole lasciare la Chiesa con la sanzione della sua parola e della sua promessa si è santi sacramenti affinché fermamente credessimo che per loro mezzo ci viene comunicato il frutto della sua orazione purché ciascuno applichi a sé con religiosa pietà questo farmaco di guarigione la quarta causa che ha reso necessaria l'istituzione dei sacramenti è stata quella di costituirli come caratteri e simboli di riconoscimento tra i fedeli infatti nessuna società umana può sussistere in un corpo unitario vero o falsa che sia la sua religione senza essere collegata da qualche segno visibile come insegna Sant'Agostino ora i sacramenti della nuova legge offrono questa duplice funzione di distinguere i cristiani dagli infatti fedeli e stringere fra loro in santo vincolo i fedeli medesimi qui vi direi di fare un commento perché questo vocabolario oggi è out non è solo politicamente scorretto ma è semplicemente considerato da non usare obsoleto un oggetto da museo d'antiquario il problema è che la differenza tra fedeli e infedeli fedeli viene da fede sono quelli che hanno la fede e quelli che non hanno la fede la fede divina e cattolica che è l'unica fede santa oggi purtroppo abbiamo questa mania che tutto quello che suona come dire un po' troppo diretto un po' troppo forte è bandito dal linguaggio perché è così un'altra giustissima causa dell'istituzione dei sacramenti si può adesumere da quelle parole dell'apostolo con il cuore si crede per avere la giustizia e con la bocca si farà confessione per la salvezza con i sacramenti noi professiamo e facciamo conoscere la nostra fede davanti agli uomini infatti ricevendo il battesimo pubblicamente testiamo di credere che in virtù di quell'acqua che ci lava nel sacramento avviene la purificazione spirituale dell'anno ovviamente qui sta parlando del battesimo degli adulti dunque i sacramenti hanno una grande efficacia non solo per eccitare e alimentare la fede nelle anime nostre ma anche per accendere quella carità che dobbiamo nutrire per gli uni per gli altri ricordandoci di essere collegati da strettissimo vincolo e divenuti membri di un medesimo corpo in virtù appunto della comunione dei sacri misteri chiaro da ultimo cosa di grande importanza per la cristiana pietà i sacramenti domano e reprimono la superbia della mente umana e ci esercitano nell'umiltà perché così siamo costretti ad assoggettarsi ad elementi sensibili per ubbidire a Dio noi che da lui ci eravamo empiamente allontanati per servire gli elementi del mondo tutto questo ci sembra opportuno doversi insegnare ai fedeli intorno al nome alla natura e alla istituzione dei sacramenti fatto questo con dirigenza bisognerà ancora loro spiegare di quali cose costrino i singoli sacramenti quali siano le loro parti i riti e le cerimonie a essi i sacramenti domano e reprimono la superbia dell'avvento umana e ci esercitano nell'umiltà cos'è la superbia umana? quella di chi dice io vado a messa non vado a messa vado sto a casa mia prego a casa mia e mi dico qualche preghiera e ogni tanto vado in chiesa accendere la candela questa sembrerebbe una fase innocua ma questa è espressione di una superbia impressionante perché chi pensa di poter bypassare e fare a meno dei sacramenti in particolare quelli che si possono ripetere perché chi fa questi discorsi vuol dire che sta lontano dal sacramento della confessione o penitenza dalla messa e dalla comunione ma non voglio anticipare quello che ci dirà più avanti il concetto di rento noi capiamo tutti quanti che il duplice effetto del battesimo che è la remissione dei peccati e l'infusione della grazia santificante per vivere una vita santa è continuamente attualizzato diciamo rinnovato dal sacramento della penitenza che non ci toglie il peccato originale ma quelli attuali e ci infonde la remissione dei peccati ce la trasmette e l'eucaristia io sono il pane di Dio dice chi non mangia la mia carne non beve il mio sangue non ha in sé la vita la vita ovviamente lì si intende la vita della grazia non sta in grazia di Dio non è un'opzione alla santa comunione quindi è superbia è superbo chi pensa di poter fare a meno i sacramenti chi va a convivere e non si sposa è superbo è superbo perché vai a fare una cosa che Dio ha detto quella cosa non la puoi fare senza prima essere venuto a sigillare un giuramento davanti a me o tu no punto e basta tu dici no io lo faccio lo stesso è un atto di superbia è un atto di prevaricazione perché tu anche se non c'è questa intenzione stai dicendo io penso meglio di Dio è così chi non si confessa è perché o dice quello che dice il diavolo io non ho peccati sapete chi è che dice io non ho peccati parla di lui il diavolo chiedete se ci avete qualche esorcista nella vostra diocesi se è un po' esperto che ha praticato un po' se si è mai sentito dire dal diavolo io non ho peccati che uno è ridicolo no? il diavolo è peccatore fin dal principio ma lui dice io non ho peccati perché per me tutto quello che faccio non è peccato quindi pensate quanti aspiranti diavoli che ci stanno in giro aspiranti somigliatori di diavoli che ci stanno in giro il diavolo non si confessa o perché pensa di non avere peccati meglio non sa riconoscerli oppure perché pensa che mi confessa farla a prere ah io non ho peccati miei mi confesso direttamente a Pagli Eterno perché deve andare a dire queste cose a uno che è come me questo è ma nell'uno o nell'altro caso è un atto di superbia di prevaricazione perché deve andare a messa la domenica per forza me la sento in televisione tanto non è uguale no non lo è perché nella televisione non è la stessa cosa deve andare a messa di persona non lo è è la televisione dove sto vedendo un po' il time facciamo in tempo a fare un altro paragrafo sì forse anche due materia e forma dei sacramenti questo è un altro passaggio molto molto importante bisognerà innanzitutto far notare che la cosa sensibile di cui si parla nella definizione del sacramento non è unica sebbene esso costituisca in verità un unico segno ogni sacramento infatti costa di due cose una delle quali al carattere di materia si chiama elemento l'altra di forma si dice comunemente verbo o parola questa è la dottrina di salute dei padri e può valere per tutti in proposito il notissimo passo di Sant'Agostino la parola si unisce all'elemento e si forma il sacramento questa la sanno veramente tutti la parola si unisce all'elemento e si forma il sacramento si pensi alla consagrazione del corpo di Cristo la parola quindi la parola della consagrazione si unisce all'elemento pane e azimo vino e pane e vino diventano corpo e sangue di Cristo quindi sacramento quindi con il nome di cosa sensibile si intendono sia la materia o elemento l'acqua per il battesimo il crismo per la confermazione l'oreo per l'estrema emozione cose tutte che cadono sul senso della vista sia le parole che hanno carattere di forma che cadono sotto un rito per esempio nella confessione non c'è un segno sensibile se non quando ancora usano il confessionale in questo caso sono le parole stesse che hanno carattere di forma cadono sotto lo dito e al tempo stesso hanno carattere di segno io ti assolgo le peccate non mi pare del suo e dello spirito santo l'apostolo ha chiaramente indicato l'una e l'altra cosa scrivendo Nel passo sono espresse la materia e la forma del sacramento era necessario aggiungere le parole alla materia perché divenisse più esplicito e chiaro il significato del rito la parola infatti è il più per spicco di tutti i segni se essa manca rimane oscuro il significato della materia e dei sacramenti consideriamo per esempio il battesimo siccome l'acqua ha il potere tanto di rinfrescare che di lavare e potendo essere simbolo di entrambi se non si aggiungono le parole potrà forse dar uno per congettura giudicare quello di lui sia il vero non potrà però mai affermarlo con certezza invece adoperando le parole comprendiamo subito che l'acqua ha la virtù e il significato di purificare appunto in questo i nostri sacramenti si avvantaggiano su quelli dell'antica legge i quali non avevano per quanto ne sappiamo nessuna determinata forma di amministrazione riuscendo perciò in certi oscuri i nostri invece hanno una formula così precisa che allontanandosi da essa attenzione cessa l'esistenza del sacramento essi riescono perciò ben chiari ne lasciano luogo al dubbio tali dunque sono le parti che costituiscono la natura e la sostanza e la sostanza dei sacramenti di cui necessariamente consta ciascuno di essi ok questa è anche una cosa molto importante un sacramento deve avere e deve essere celebrato con la sua formula valida per l'amministrazione sapete che molte volte in giro si fanno questioni cose valide o non valide fino a quando c'è una formula di la formula propria che si chiama la forma del sacramento non si deve dubitare che il sacramento ci sia altra cosa e lo vedremo è la sua efficacia e la sua fruttosità ma se si recita la formula precisa del sacramento c'è così come questo vale anche il contrario però se ci si allontana da essa l'esistenza del sacramento c'è se ci sono dici questo non sono arbitri non possono cambiare le formule di celebrazione dei sacramenti non possono non dire io ti assolgo le due peccate ti battisco la nuova e lo spirito santo eccetera questo è il mio corpo questo è il mio sangue per questa santunzione la sua chissima misilicordia puntini puntini l'olio santo non si può quindi ha una formula così precisa che allontanandosi da essa cessa l'esistenza stessa del sacramento infine ultimo paragrafo si va a dire al 158 così la prossima volta dovremo chiudere e magari cominciare ad approfondire il battesimo alla materia alla forma si aggiungono le cerimonie che salve il caso di necessità non possono mettersi senza peccato ma che pur omesse non distruggono il valore del sacramento perché non appartengono all'essenza di esso noi oggi non ci rendiamo tanto conto di queste cose però per esempio nel rituale romano antico c'è tutto quanto un rito di integrazione del sacramento del battesimo perché se tu hai ricevuto il sacramento del battesimo in una situazione di necessità sembrava che il bimbo stesse a morire quindi lo stetico in ospedale te la prese e te la battezzavo come un tempo tutto lo stetico se vanno a fare dicendo tutti i battesi non hanno fatto il padre del figlio dello spirito santo quello è stato battezzato il battesimo non si può ripetere però le cosiddette cerimonie come si chiamavano cioè tutti quanti quei riti che si fanno prima e dopo il battesimo che sono molto importanti sono stati omessi quindi bisogna farli in qualche modo rientrare bisogna recuperarli forza giustamente fin dai primi tempi della chiesa si è sempre usato di amministrare i sacramenti con solenni cerimonie anzitutto perché sommamente conveniente tributare ai sacri misteri un tale culto religioso affinché da santi trattassimo le cose sante noi non ci rendiamo conto oggi di tante cose cioè può potarsi che avete sentito qualche volta dire che un tempo c'era la cosiddetta messa cantata la messa in terzo se celebrata con il sacerdote o addirittura il pontificale cerimonie di questo genere erano belle impegnative e belle lunghe un pontificale può durare ad arrivare può arrivare a durare tre ore e quindi sempre troppo poco sommamente conveniente tributare ai sacri misteri un tale culto religioso affinché da santi trattassimo le cose sante poco quello lì sempre troppo poco poi in secondo luogo gli effetti del sacramento sono meglio chiariti dalle cerimonie che quasi ce li pongono sotto gli occhi e imprimono più altamente la loro santità nell'animo dei fedeli infine le cerimonie elevano la mente di chi le guarda e le osserva con diligenza al pensiero delle cose celesti ed eccitano in lui la fede e la carità perciò bisogna adoperare grande cura e diligenza affinché i fedeli conoscano a fondo il valore delle cerimonie proprie di ciascun sacramento ecco quindi anche questo è un passaggio molto molto significativo vedere una bella celebrazione di un sacramento una degna celebrazione di un sacramento se una persona non è proprio fuori della grazia di Dio nella specie di diavolo sicuramente ti toccherà un pochino il cuore citando la fede e la carità magari aiutando a ritrovartela se ne è persa abbiamo un esempio in Sant'Agostino questo racconta lui nelle confessioni Sant'Agostino si convertì non soltanto per l'incontro con Sant'Ambrogio e per le prediche ogni tanto andava al Duomo alla chiesa principale di Milano e sentiva oltre che la predica di Sant'Ambrogio i canti chiaramente seguiti in un certo modo a quei tempi presumo che non c'era ancora il canto gregoriano ma c'era già l'abitudine di cantare i salmi a Dio al Padre sicuramente mutuata dai tempi apostolici e ripresa dalla tradizione ebraica e dalle abitudini di nostro Signore in persona sicuramente quindi una cerimonia degna bella ben celebrata Lars Cerebrandi di cui parlava in diversi documenti il compianto Papa il Benedetto XVI ha un fortissimo sprone a farti crescere la fede e la carità solo che bisogna dire a contrario e con questo chiudo che cerimonie celebrate in maniera sciatta brutta e scelerata non è che ti eccitano la fede e la carità ma ti aiutano a perderle purtroppo quindi non è peccato anzi in questi tempi può essere quanto mai suggeribile cercare di frequentare luoghi dove i sacramenti vengono celebrati in un certo modo che non messi in mezzo alla strada perché forza del secondo comandamento andrà al prossimo do come te stesso quindi ama te stesso in maniera santa noi abbiamo il diritto e il dovere di formare la nostra coscienza e di lasciare formare la nostra coscienza che ha il potere di portarci di bene in meglio bene amici cani ci formiamo qui la santa notte a tutti che Dio vi benedica e la santa vergine vi protegga e la santa notte a tutti